Ciao ragazzi a vostro schizzo e stiamo con un nuovo video Oggi finalmente mi fa rivedere in faccia Però non siamo qui per farmi vedere in faccia Ma Per questo Giudicherò i giochi della play che ho Raga Ci vediamo Girati Cioè Verso di là Da vedere i giochi della play Ci vediamo Eccoci raga Postazione professionale proprio eh Ecco qui Partiamo con FIFA 21 Mi ha detto vi farò vedere un attimo Vi spiego perché mi è deluso Se mi è deluso Se no FIFA 21 Buono Approvato Gli do 7 per la modalità online No era 10 assoluto E per qualche bug iniziale Ma comunque La sufficienza sarà beccatuta Poi mi è Allora Andiamo su WWE 2020 Mi è deluso Mi è deluso tantissimo Li darei Li davo Se era meglio Strutturato E con una buona storia Li davo pure 8 Però mi tocca scendere a 4 Comunque è giocabile Mi piace E mi piace pure La cosa che posso Mettere super stack Che non esistono Che hanno creato la gente Si arriva qui A quello che ho aspettato Me l'hanno regalato a Natale L'ho aspettato tutto l'anno Dragon Ball Z Da cacarote Questo aveva un hype tantissimo Hype rispettatissimo 9 9 8 Vai Basta un po' 8 8 raga Andiamo a Questo Vedete che è Farming simulator Molto bello Raga Molto bello Li do 7 7 Cioè non merita tantissimo Il 7 questo Farming simulator Pure 8 Allora andiamo Con un classicone GTA 6 Che darei 10 Ma la modalità online Ma è tanto deluso 6 Dai Raggiungiamo la sufficienza A poco Che devo dire 10 10 Raga non posso dare Nel altro che 10 La mia infanzia 10 10 Minecraft Me lo aspettavo Una Minchiata Clamorosa Vedete che è rivelato Un bellissimo gioco 8 Perché mi ci diverto Tanto 8 Perché È un molto divertimento E mo si arriva A quello Che mi ha Deluso Raga L'ho preso Ah Scorre sotto Non l'avete già visto MotoGP 2020 1 1 1 1 1 1 Delusione Prima Ora vi faccio La prima delusione Quanto è One player Io l'avevo preso Per giocarci Principalmente Con mio fratello One player Per giocarci Con mio fratello Uno contro uno Visto che c'è Il giocativo uguale A tutto One player Un player No 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 Raga No 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 Ho detto No 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 Ho provato Non capisco Ancora come si gira E cosa Infatti L'ho lasciato Oggi L'ho riaperto Un attimo Ma ho detto No Non l'epo Non so Capito Una sega E Mi ha deluso Tantissimo Per One player Io Principalmente Avevo preso Per giocare Nessere Mi ha fatto Che faccio Dei risate Nulla One player FIFA 20 E poi c'è L'ultimo Dopo Che È Non giudicato L'ultimo Poi vi spiego Perché Eh La FIFA 20 Quanto dà Quanto d'altro FIFA 5 6 Dai 6 Vediamo Unita Sufficienza Questo Raga Vi dico Già Aspetta Potremmo Comprar Un altro Non Non Classificato Perché PES 2017 Preso L'anno Scorso A 2019 A 2020 Ho preso PES 2016 Giusto No Come cosa No Nemmeno L'anno Scorso Quanto ho preso La play Ho preso La play Ho preso Il FIFA 20 E il Secondo Gioco È stato PES 2017 Poi Non Cosa Perché Ho giocato Pochissimo Ho detto Lo lasciamo Lì Lo cancello Dalla Play È vecchio E Non mi piace Poi Giusto Però Quest'anno Forse PES Lo compro Oppure PES 2021 Perché Sono molto Curioso E farò Una carriera Pense Raga Ditemi Se volete Vedermi In partite Online Su FIFA Ovviamente Vedete Vedete Delle partite Online Fatte Da me Su FIFA 21 C'è In un gioco My Club Di che cacchio È Foot Perché Non mi piace Gioco In stagione Faccio Le stagioni Con le squadre Sclero Parecchio Le stagioni Con le squadre Mi hanno già Raccontato In una carriera Di FIFA Nè La carriera Di FIFA 17 Di FIFA 16 Cos'era successo Con uno Che giocava Giocava Bellissimo Ditemi Volete Storie Perché Vi Posso raccontare Gli anni Sono molto interessanti E nella mia vita Raga Spero Che il video Vi sia piaciuto Ci vediamo Alla prossima Con altri giochi Spero Un'altra recensione Più specifica Di Anteloba Prima che Scensioniamo Foto C'è C'è Niente È stata Su un aggegino Molto simpatico Ehm Comunque Deve tenere Tutte storielle O Altre cose Ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao